Ciao a tutti, voglio parlare in questo video della sorgente, dell'origine della felicità. Qual è la sorgente della felicità? Qua è un discorso molto interessante, perché ci sono persone che vanno a cercare la felicità in fatti esterni a loro. Cioè credono che se riusciranno a conquistare quella persona, allora sì che saranno felici. Poi, se non la conquistano, si sentono infelici. Ma anche se la conquistano, questa felicità dopo un po' si esaurisce. E anzi, succede spesso che magari poi la relazione va pure male, e per cui stai molto peggio per venire fuori da una relazione che quando non ce l'avevi questa relazione. Alcuni credono che, ah, se trovassi un lavoro sarei felice. Poi trovano il lavoro e dopo un po' si rendono conto che stanno peggio di prima, fanno una vita sacrificata. Non riescono a fare i loro hobby, a fare le cose che gli piacciono. Diventano schiavi di questo sistema lavorativo. Altri credono che la felicità si possa ottenere comprandosi la macchina nuova, la casa nuova, oggetti materiali di qualunque genere. E anche qua scoprono che questi oggetti possono sostenere la felicità per un periodo di tempo brevissimo. Il problema qual è? Che se sei infelice dentro, qualunque cosa tu abbia all'esterno, dovunque tu vada, ti porterai dietro sempre l'infelicità. Perché l'infelicità è una sensazione. Pensate ad esempio al Buddha, a San Francesco, che hanno rinunciato deliberatamente a tutto quello che gli altri credono dia felicità. Come ad esempio il denaro, gli oggetti, le ricchezze. San Francesco e Buddha hanno rinunciato. Eppure sono persone felici. Erano persone felici. Pensate a Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta avrebbe potuto dormire tranquillamente negli hotel a 5 stelle. Invece dormiva nelle brosari ed era una persona felice. Quindi la felicità non sta nelle cose che noi abbiamo, ma sta nella nostra interiorità, sta dentro di noi. Quindi non è un qualcosa che tu puoi cercare fuori. Anzi, se tu la cerchi fuori, sei sicuro matematicamente che troverai tanti modi per essere infelice. Bene, bisogna eliminare tutto ciò che dà infelicità. E quello che dà infelicità sono i veleni mentali. I veleni mentali sono due. Sono la rabbia e l'attaccamento. Dalla rabbia poi nasce l'invidia, nasce il rancore, nasce il risentimento. Dall'attaccamento nasce la gelosia, nasce il voler possedere le cose, nasce il desiderare di condizionare gli altri. E sono tutte cose che danno infelicità. Pensate a una persona gelosa, ma secondo voi è possibile che in qualche modo una persona gelosa possa essere felice? No, non è possibile. Pensate a una persona invidiosa, ma secondo voi è possibile che una persona invidiosa possa essere felice? No, non è possibile. Quindi la vera felicità è un lavoro su se stessi e consiste nell'eliminare questi veleni mentali. Eliminando i veleni mentali allora si potrà andare verso la felicità. Verso la felicità e oltre il puro benessere. Ma dobbiamo imparare a eliminare i veleni mentali, eliminare gli attaccamenti e la rabbia. E sostituirli con che cosa? Beh, sostituirli, la rabbia possiamo sostituirla con la pazienza, con la compassione, cioè il desiderare di aiutare gli altri a superare le loro sofferenze. Gli attaccamenti possiamo sostituirli con l'amore. L'amore non è attaccamento. L'attaccamento io ti voglio possedere. L'amore io desidero che tu sia felice. Ma anche l'amore per noi stessi, desiderare per noi stessi la felicità. Ecco, se riusciamo a trasformare i veleni mentali, ne riusciremo veramente a essere felici, avere energie per vivere questa esperienza misteriosa, ma comunque affascinante, che si chiama vita. Per questo video è tutto. Seguitemi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscrivetevi al canale, e iscrivetevi anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui vi posto il link in descrizione. Ciao a tutti!